E' stato approvato in Commissione Bilancio dell'Ars il disegno di legge di bilancio 2023-2025, vede la luce un bilancio dal valore complessivo di oltre 16,5 miliardi di euro che si articola su certezze contabili e che seguendo un principio di oculatezza riduce l'indebitamento complessivo dell'ente, afferma l'assessore regionale all'economia Marco Falcone. Inoltre aggiunge, grazie a specifici accantonamenti, teniamo conto di tutte le partite indicate dalla Corte dei Conti, ma anche reinvestiamo la cifra di 200 milioni di euro che abbiamo in entrata sulla base dell'accordo Stato-Regione per il recupero della maggiore spesa sanitaria. Prossimo argomento da trattare in Commissione intanto, la legge di stabilità 2023. Procediamo con speditezza nel rispetto del calendario concordato con l'Aula, dichiara il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nel varo dei documenti contabili della Regione, il tutto nell'ottica della regolarizzazione dei conti e per dare risposte concrete siciliani, con una programmazione economica ragionevole e lungimirante, che non penalizzi conclude lo sviluppo dell'isola e i servizi ai cittadini.